Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto in Italia, la terribile notizia è appena arrivata. Nelle scorse ore è venuto a mancare un personaggio di spicco per la nostra sanità italiana. Tutti sotto shock è stato un massimo esponente delle medicine italiane all'estero. E' morto a Roma all'età di 74 anni, Francesco Romeo, cardiologo di fama internazionale. Già professore ordinario all'Università Torbergata e direttore della Scuola di Specializzazione in Cardiologia. Era originario di Fiumara di Muro, nel Regino. Una carriera, la sua, ai livelli più alti, è stato componente del Consiglio Superiore di Sanità. Nel 2013 era stato insignito dal Presidente della Repubblica con la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. Tra i tanti incarichi di prestigio, anche quello di Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia.